salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi è arrivato il giorno di provare lui l'SG 907 max è questo drone love coast che è il primo drone appunto love coast che costa appena 100 euro che ha un peso sotto i 500 grammi ed un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi quindi la curiosità è appunto è in questo che abbiamo un drone davvero leggero perché pesa 300 grammi e un gimbal stabilizzato meccanicamente questo vuol dire che questi droni love coast si stanno sempre più avvicinando la soglia di 250 grammi questa appunto sarà la nuova sfida di questi droni love coast zllrc sicuramente uno dei marchi migliori nei droni a basso costo e soprattutto sfornano la quantità di droni veramente infinita circa un drone ogni due mesi arriva da questo marchio sono mai conosciutissimi gli sg 906 908 906 max tutti questi droni che sicuramente volano benissimo però hanno sicuramente la problematica del peso se arriveranno droni sotto i 250 grammi ragazzi sicuramente spopoleranno anche se ovviamente non saranno droni a livello di un mavic mini però sicuramente per chi vuole divertirsi avere dei video accettabili sarà sicuramente un drone valido però oggi parliamo di lui le sg 907 max come gli ho detto donne a 300 grammi con le caratteristiche simili a quelle dei suoi fratelli cioè quindi vari 906 908 e via dicendo quindi le caratteristiche molto simili dal punto di vista del volo perché abbiamo anche qua un optical flow abbiamo il gps abbiamo il return to home automatico abbiamo il point of interest abbiamo la possibilità di creare quindi veramente tutto quello che normalmente facciamo con i suoi fratelli maggiori però bisogna vedere come lui nel suo peso è in grado di fare tutte queste cose una cosa che però volevo sottolineare ragazzi state attenti a quello che vi sto dicendo adesso perché secondo me è importante uno questo drone registra i video in full hd quindi a 1080p e non a 2,7k come i suoi fratelli maggiori almeno la mia versione registra 1080p e una cosa ancora più importante è la micro sd perché vi dico questo da micro sd perché sono diventato un po matto nel fare di registrare i video nel senso che io gli ho messo all'interno una micro sd di quelle che uso normalmente con i dj ai ma che ho usato anche con i suoi fratelli maggiori quindi parliamo di sandisk pro o samsung evo cioè tutte queste micro sd ad alta velocità e lui non le vede quindi non registra nessun video poi dopo varie prove vari tentativi ho detto ma non è che siano queste micro sd che lui non riesce a leggere allora ho messo dentro una micro sd una di quelle non ad alta velocità e infatti a quel punto il problema è stato risolto quindi ragazzi questi due punti dovete tenerli bene a mente registra il video in 1080p e ci vogliono delle micro sd non ad altissima velocità quindi ragazzi fatto tutto questo preambolo direi che adesso però è arrivato il momento di provare e vedere come si comporta in volo come si comporta dal punto di vista video e foto quindi ragazzi adesso è ora di testarlo ok ragazzi siamo pronti come avevo detto anche nell'unboxing qua abbiamo il radiocomando di ultima generazione per quanto riguarda z lrc quindi quello più bello con il display un po più diciamo bello da vedere perché poi le informazioni che abbiamo all'interno sono le stesse comunque anche della versione precedenti però la cosa più importante che abbiamo le batterie ricaricabili anche all'interno di radiocomando mentre sapete che per i z lrc quindi vari sg che non avevano questo radiocomando bisognava inserire delle batterie stilo ma invece abbiamo le batterie ricaricabili incluse allora l'applicazione da utilizzare per questo drone e la testa del sg 908 è la xl pro questa applicazione che è compatibile con una buona parte dei droni sg e soprattutto è disponibile poi sia per ios che per android allora per prima cosa come sapete dobbiamo entrare nelle impostazioni del nostro telefono per entrare poi in quelle del nostro wifi e vedete che è già disponibile la rete creata dal drone quindi la xl max e 5g che comunque lui è il drone trasmette la parte video sulla rete wifi 5 gigahertz quindi vedete quindi selezioniamo la rete disponibile a questo punto non ci resta che andare ad aprire l'applicazione xl pro eccola qua allora dentro a setting abbiamo le varie impostazioni che possiamo attivare o disattivare come sappiamo ormai con tutti gli sg quindi selezionate quello che vi interessa o meno praticamente lasciate tutto suon e siete a posto poi andiamo indietro andiamo su ready quindi a questo punto vado a fare calibrate e vado a calibrare la bussola quindi vado a ruotare il drone ok lo vado a ruotare nell'altro verso ok con i vari bip ci indica che la calibrazione è stata fatta vedete che adesso è già tutto connesso è tutto pronto al volo allora adesso accendiamo il drone e iniziamo il test inizieremo con l'overing per vedere se ha un overing simile a quello dei suoi fratelli maggiori che hanno un overing secondo me perfetto per la loro fascia di prezzo poi vedremo come il suo comportamento in volo proprio nella gestione in volo come si sente il drone poi proveremo a fare un point of interest quindi girare impone un punto di interesse e poi ovviamente faremo video e foto quindi ragazzi decolliamo a una cosa volevo farvi vedere avete sentito il bip perché è passato adesso in mod 2 cosa vuol dire in mod 2 mod 2 vuol dire che il drone adesso è in modalità gps in modo 1 non ci dava il permesso di decollare a meno che non forzavamo appunto il decollo perché in quel caso avrebbe volato solo con l'optical flow e l'accelerometro mentre diciamo un volo sicuro all'esterno è meglio volare con gps quindi aspettiamo che ci dia l'ok con il mod 2 quindi a questo punto abbiamo 9 satelliti quindi vado a riaccendere il drone e vado a decollare allora vado a far partire la registrazione video perfetto adesso vediamo come si comporta in overing allora vediamo c'è l'erba altissima se mi vedete sprofondare perché sono sprofondato nell'erba allora l'overing non è malissimo ma non è come quello dei suoi fratelli vedete che il drone non sta fermo come lo fanno i suoi fratelli maggiori adesso lo rimetto qua davanti giusto per capire bene di quanto si muove salgo anche un po vedete che l'overing no lo devo correggere non ha un grande overing vedete che il drone tende un po venire in avanti non tanto adesso però vedete che adesso mi sposto di qua per farvelo vedere lateralmente vedete che non è fermo come sui fratelli non c'è praticamente un vento forte c'è un po di arietta ma non è vento però non sta fermissimo allora quindi l'overing è nì nel senso che non ha un overing pericoloso che crea grossi problemi a chi lo usa ma sicuramente non è un overing incredibile allora proviamo a fare un volo giusto per capire come si comporta proprio a livello di sensibilità nel volo così sono nella modalità lenta perché abbiamo due velocità abbiamo la velocità questa e poi quella più veloce mi alzo anche un po ok la durata della batteria viene data per 25 minuti adesso cambio velocità ok adesso ho messo la velocità quella più performante infatti vedete già come è cambiato è cambiato davvero tanto e sono inseguito da delle api non so se le vedete ma mi stanno inseguendo delle api probabilmente il ronzio le affascina tantissimo allora da pilotare è bello è come tutti gli sg da pilotare è davvero davvero bello quindi dal punto di vista del volo tanta roba vado a rimettere la velocità lenta che quella più adatta per fare i video per comunque calcolate che avete uno stabilizzatore si meccanico su tre assi ma molto economico quindi se dovete fare riprese video usato in modalità lenta è allora facciamo un giretto giusto per vedere poi come si comporta sulla qualità video adesso salgo un po perché comunque come vi ho detto registra a 1080p e quindi è un full hd perfetto adesso proviamo magari a scattare anche una foto vediamo vado interrompere il video e vado a scattare una foto perfetto scattata prova a girarmi un po verso di me vediamo se riesco ad inquadrarmi abbasso il ghimbal il ghimbal si abbassa sempre con i tasti qua dietro come ho già detto nei vari video sg ha questo sistema di regolare il ghimbal che è veramente odioso perché i tasti non mi piacciono neanche un po però purtroppo insistono a fare questa regolazione con i tasti e adesso proviamo a spostarci di qua che c'è un bel giardinetto foto perfetto e adesso possiamo ricominciare a registrare il video allora proviamo a guardate quante api che sono arrivate intorno guardate quante se sono api e comunque sono insetti che continuano a girare intorno ma sono tantissime mi era successo anche con lsg 908 che erano arrivati tutti questi insetti intorno erano ancora di più gli ha tritati tutti madonna si sono tipo api sentite come picchiano nelle eliche è pazzesco guardateli si suicidano nelle eliche ma incredibile li vedete madonna ce n'è ancora tre ecco un altro è andato due due dai suicidatevi anche voi no non si stanno suicidando adesso guardate l'ovening è migliorato sta molto più fermo rispetto a prima probabilmente ha agganciato più satelliti infatti adesso ne abbiamo 16 rispetto all'inizio che ne avevamo tipo una decina e l'overing è migliorato è devo dire che migliorato di tanto anche guardate come sta fermo adesso con 16 satelliti allora proviamo a fare un poito un finta come avete visto anche quegli altri sg dovete andare sul punto in cui volete a cui lui giri intorno quindi quel giorno e ci andate proprio fisicamente sopra quindi mettiamo che io vengo sopra di me quindi il centro sarò io il punto di interesse vado a cliccare sul simbolo del point of interest lui si allontana di quei cinque metri da me una cosa del genere si gira verso di me e vedete che fa il punto di interesse praticamente non si può regolare il raggio del cerchio però una volta che andate sopra al soggetto lui poi ci gira intorno si allontana in maniera automatica e gira sopra al soggetto e lo fa anche bene guardate come è stabile adesso ovviamente a livello video non è un dj i però guardate come stabile come le api continuano andare a suicidarsi sulle eliche del sg 907 max guardate se sono tornate quattro praticamente quelle morte sono state sostituite da altre ok ecco vedete che lui non si ferma dovete andare a interromperlo altrimenti lui continua a girare adesso vi allontano un po per vedere anche un po il range vediamo quanto range abbiamo mi allontano vado anche abbastanza alto sono ad un'altezza adesso di 33 metri mi allontano e siamo a una distanza di 44 metri e vediamo vado a mettere la velocità quella più performante almeno acceleriamo un po la cosa perché sennò altrimenti diventa lunghissima ok vediamo siamo a 197 metri siamo a 250 metri siamo quasi a 300 metri ritorno video inizia essere un pochino scattoso però c'è ancora basta ritorno video se bloccato quindi direi che è il momento di ritornare quindi vado a cliccare il return to home clicco sul tasto qua del radiocomando e avvio il ritorno automatico perché comunque avete visto che l'immagine video si è impallata quindi non c'era più ritorno video perché come sapete ritorno video ragazzi qua siamo intorno ai 400 metri 500 se proprio non ci sono interferenze mentre il range di controllo del radiocomando arriva anche intorno agli 800 metri perché comunque sono due frequenze diverse ovviamente due segnali diversi poi ho lasciato in sd sul ritorno video per avere più diciamo range perché se mettete hd quindi una qualità maggiore avete meno range comunque perché il segnale video si interromperà prima ok il drone qua sopra vediamo dal punto di vista delle rth o meglio del ritorno a casa a livello di precisione a che punto a che livello a che livello siamo sta arrivando però ce l'ha a dire anche che sono partito guardate quante api adesso sono tantissime o mamma guardate lo spostano quasi lo spostano vado a interrompere il ritorno guardate ragazzi pazzesco quante aspettate che gli faccio una foto perché sono veramente tantissime ragazzi pazzesco sono aumentate ancora di più guardate che roba adesso lo faccio di atterrare perché sennò ragazzi me lo triturano cioè guardate che roba adesso lo faccio atterrare comunque nel ritorno automatico ha sbagliato di un 4 5 metri abbondanti forse qualcosina in più poi mi sono fermato perché queste api ragazzi veramente ne stanno combinando di ogni intorno al mio sg quindi adesso faccio riatterrare sul landing e poi ne parliamo e mi sto spostando un po adesso si sa per fare una donna come acconciato guardate quante non sono api sono dei specie di bomboloni cosa cacchio sono guardate mamma guardate come conciato che schifo che schifo ma no ma dai ma me l'hanno conciato da sbatter via che schifo ma allora ragazzi aspettate che spengo tutto e poi tiriamo le conclusioni perché ragazzi qua c'è da delle conclusioni veramente di sbudellamento mamma mia allora spengo tutto e tiriamo le conclusioni ok ragazzi lsg 907 max è ritornato ma è ritornato davvero conciato male guardate questo è il risultato è guardate le eliche uno schifo incredibile madonna che schifo è tutto appiccicoso che schifo ragazzi non mi dovevo di andare a casa a pulirlo perché è una cosa veramente indecente cioè è stato praticamente una carneficina di questi insetti che non erano api poi ma erano delle specie di bomboloni sapete quelle non so il nome esatto quelle specie di api che non sono api un po più cicciottelle e ragazzi il risultato è questo una carneficina si suicidavano contro l'eliche avete visto pazzesco però ha resistito quindi sicuramente un punto a favore di questo sg 907 max è la resistenza agli attacchi perché ragazzi erano sciam incredibile sono partiti che erano 5 6 al ritorno quando ho fatto il return to home e mi sono fermato in overing perché non farlo atterrare nell'erba alta perché qua c'è l'erba alta così per non farlo scendere l'ho fermato e sarebbe atterrato più o meno a 5 metri dal landing una cosa del genere così ad occhio e va bene per essere un drone economico soprattutto che ragazzi costa 100 euro questo drone e poi c'è da valutare anche che sono partito con 9 satelliti probabilmente se avessi aspettato di avere 16 17 satelliti a cui arrivato poi ad agganciare dopo durante il volo probabilmente avrebbe fatto un ritorno più preciso però come dico sempre l'importante è ritornare nell'area da dove si è partiti con questi droni low coste però dopo mi sono perso via perché ragazzi è stata una cosa fuori da ogni realtà praticamente il drone era in balia di questo sciamme pazzesco e poi una cosa sempre data da questi satelliti avete visto anche l'overing all'inizio avevo 9 10 satelliti cioè quelli minimi per poter decollare col gps e l'overing non era perfettissimo il drone si spostava un po in avanti non stava fermo niente di diciamo scandaloso o di pericoloso però non era fermissimo però poi quando sono tornato che avevo circa 16 satelliti una cosa del genere l'overing era praticamente perfetto non si muoveva più quindi c'è da considerare anche quello che all'inizio non avevo tanti satelliti ovviamente un dj stava fermo anche con 9 satelliti mentre un drone low cost come questo ha bisogno di più satelliti per stare fermo immobile la durata della batteria viene data per 25 minuti secondo me è durata intorno ai 20 forse qualcosina meno però è anche vero che ha dovuto lottare contro uno sciamo incredibile di questi insetti quindi magari qualcosina in più di batteria sarebbe durato poi il volo ragazzi vola benissimo cioè dal punto di vista proprio della gestibilità con gli stick è piacevole morbido vola vola davvero davvero bene poi un'altra cosa che abbiamo provato è stato il range avete visto siamo arrivati intorno ai 350 metri poi l'immagine si è piantata a quel punto ho attivato il retorno home con il tasto sul radiocomando e lui è tornato senza nessun problema quindi sicurezza massima e il range ragazzi è quello e si varia dai 300 ai 500 metri massimo a 500 metri proprio se siete in una zona senza una minima interferenza calcolate più dai 300 e 450 metri massimo di ritorno video mentre di controllo proprio delle radiocomando verso il drone parliamo anche di un 800 metri e poi la qualità video ditemi voi cosa ne pensate come io ho detto è un full hd 1080p e calcolate che questa stabilizzazione meccanica su tre assi l'avete su un drone che pesa circa 300 grammi e che costa 100 euro quindi valutate un po anche tutto questo se pensate fino a poco tempo fa un drone a 300 grammi economico praticamente i video erano non brutti proprio era come non averli neanche qua probabilmente qualcosina in più sia stessa cosa le foto ditemi voi come avete visto la qualità video delle foto e poi cosa dire ai point of interest avete visto l'ha fatto molto molto bene ha girato intorno al soggetto praticamente nello stesso modo in cui lo fanno i suoi fratelli maggiori e quindi ragazzi cosa dire secondo me è un drone super promosso per il suo costo perché ragazzi un drone molto leggero 300 grammi quindi siamo sotto i 500 grammi ha sempre bisogno ovviamente di patentino e di assicurazione ma è sicuramente con agevolazioni maggiori rispetto a un drone che pesa più di 500 grammi appunto nelle possibilità di utilizzo che ci vengono date a livello di legge e quindi ragazzi è davvero super super consigliato appunto perché costa davvero poco circa 100 euro link in descrizione con anche lo sconto se riesco ad averlo e poi sicurezza di volo avete visto vola benissimo sicurezza nel ritorno a casa quindi davvero un drone super super completo radiocomando quello di ultima generazione per quanto riguarda zl rsi con batterie incluse ricaricabili e poi ragazzi resistenza agli sciami pazzesca cioè lui 300 grammi guardate che faccello che ha fatto praticamente ha fatto una strage incredibile ma lui non ha mollato e si è trovato contro un esercito di questi insetti ma lui non ha mollato e li ha tritati mi spiace per loro però hanno fatto tutto da soli praticamente erano dei insetti suicidi perché lui stava fermo e questi si suicidavano quindi ragazzi spero che questa prova vi sia stata utile e ragazzi se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità curiosità anteprime perché comunque questo drone è arrivato già anche su instagram come anteprima porto tante stampe 3d voline fpv sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3 come offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi anche un video un volo una recensione un testo un tutorial o novità ciao